La partenza di questo quarto gran premio franco basso riservato alla categoria Donne Juniores. Andiamo quindi con il 3, 2, 1 e con la bandiera del presidente del Breganze Millennium. Italiano per la categoria allieve. Vediamo appunto nelle prime posizioni le maglie della Lady Giuliani. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.